Per avere la casa pulita e profumata, facciamo adesso una miscela naturale, 100% naturale, facile e veloce, per lasciare la tua casa profumata tutto il giorno. Vieni con me! Per fare questa miscela avremo bisogno di 100 ml di acqua. Se tu hai acqua destilata, puoi mettere l'acqua destilata o acqua minerale. Io sto usando acqua del mio depuratore. Olio essenziale, della preferenza tua, quello che hai, quello che preferisci. L'essenza che io metto oggi è patchouli, è un'essenza che mi piaceva tanto quando ero giovane, quindi voglio provarla, ma puoi mettere l'essenza che vuoi. Un barato voto, adesso facciamo! In sala puoi metterlo anche qui, puoi mettere sui divani, o anche spruzzare un po' sulle tende, come vuoi te. Io, come ho la sala ampia, tu puoi anche provare e lasciare un diffusore, come ci sto facendo vedere, metti su un diffusore, così uscirà il profumo di pulito tutto il giorno. Come ti avevo detto, puoi uscirare l'essenza che vuoi te, così lascia la tua casa bella, profumata tutto il giorno. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare il mio like. Un bacio, alla prossima. Ciao! Ciao!